Salve a tutti, sono Gianfranco Marini e benvenuti alla bottega didattica per il fai da te nell'ambito delle tecnologie dell'apprendimento e della conoscenza. Questo video tutorial, che spero breve, serve per illustrare un'applicazione estremamente semplice, anche molto limitata se vogliamo, ma che presenta i suoi vantaggi. Si chiama Make Belief Comics e serve per creare dei fumetti. E' stata realizzata da una collaborazione tra Bill Zimmerman e Tom Bloom, e qui vedete il risultato finale, che può essere questo, possiamo avere anche più pannelli. Questo è il risultato finale, una striscia formata da diversi pannelli, possiamo aggiungerne anche più di tre, con uno sfondo, dei personaggi, dei balloon con del testo, ci possono essere anche degli oggetti. Quali sono le caratteristiche principali di questa applicazione? Bene, che serve per creare i fumetti, l'abbiamo detto, non si può archiviare online e quindi salvare online il risultato del proprio lavoro, che va o stampato o salvato su disco in un formato immagine. Si può anche spedire via mail, oppure condividere, per esempio su Facebook, il fumetto che abbiamo realizzato. Un vantaggio è senz'altro che non richiede nessuna registrazione, quindi adatta agli studenti più piccoli. Come vedremo, fondamentalmente disponiamo di una galleria di personaggi, di sfondi, di balloons, di oggetti, di effetti grafici, e possiamo fare certe operazioni come muoverli, ribaltarli, metterli in primo piano, scalarli, quindi più grandi o più piccoli, e così via. Digitiamo sul motore di ricerca Make Belief Comics e cominciamo a lavorare. Qui possiamo vedere una demo e noi clicchiamo direttamente su Crea il tuo comics. Qui inseriremo un nome, per esempio la mia storia. Qui inseriremo il nome dell'autore, se è individuale il proprio nome, altrimenti il nome dell'autore collettivo. E qui abbiamo dei pannelli. Cominciamo col primo pannello. Possiamo avere un massimo di 9 pannelli e, come vedete, possiamo aggiungerli cliccando sul più o levarli. Clicchiamo su OK e eliminiamo il nostro pannello. Vediamo come inserire i personaggi. Scegliamo un personaggio, utilizziamo la barra di scorrimento per selezionare il personaggio che più ci interessa, clicchiamo. Ci vengono proposte varie versioni del personaggio. Scegliamone una e il nostro personaggio verrà automaticamente inserito nel primo pannello. Torniamo indietro ora e vediamo di aggiungere un balloon, il fumetto vero e proprio. Ne scegliamo uno, sempre usando la barra di scorrimento. Ecco, aggiungiamo questo e con un doppio clic inseriamo il testo. Ecco qua, questo è il professore che pensa e non sa cosa dire ai suoi studenti. Proviamo adesso a tornare dai personaggi e inserire un secondo personaggio. Ecco, clicchiamo qui, ci ne è proposto in varie versioni, clicchiamo in modo da inserire anche questo personaggio. Cosa possiamo fare ancora? Qui abbiamo il menu, possiamo per esempio muoverli, clicchiamo sul pulsante che ci consente di muoverli e possiamo spostarli. Possiamo anche, vedete, scalarli. Clicchiamo su scale, andiamo sul prof, comparirà una pagina e potremo ingrandire o diminuire il nostro personaggio. Cosa possiamo fare ancora? Possiamo portare indietro o di fronte. Per esempio, vedete, adesso ho inserito lo studente, muoviamolo, spostiamolo davanti al professore. Posso poi decidere di ribaltare uno dei personaggi, per esempio flip, clicco sul pulsante flip, bisogna prima cliccare sul pulsante, poi sul personaggio o sull'elemento a cui si vuole applicare quell'operazione. Come vedete, adesso il professore, vedete, si ribalta ripetutamente e devo per muoverlo cliccare su move e lo spostiamo qui. Ecco qua, adesso si sta rivolgendo allo studente. Torniamo indietro, vediamo cosa abbiamo ancora, abbiamo degli oggetti, mettiamo adesso un oggetto qualsiasi, una valigia, la posizioniamo qui. Vedete che non c'è una scelta illimitata, la scelta anzi è abbastanza ristretta, però si possono fare varie cose. Qui abbiamo vari elementi grafici, cliccando sui quali possiamo. Adesso ho riempito di troppe cose l'immagine, spostiamo, porta di fronte, ecco qui. Ecco, questa è la composizione dell'immagine, insomma, dalla del singolo pannello, poi passerà a compilare il secondo, poi il terzo e così via. Posso anche inserire degli sfondi, vedete, la casa bianca, non sono molti neanche gli sfondi, vediamo se c'è qualcosa, ecco il mare, popolarli dei miei personaggi, scrivere i testi e così via. Posso aggiungere, come detto prima, dei pannelli. Diciamo che ho finito, cosa posso fare adesso? Posso o stampare o inviare via mail, cliccherò su questo pulsante, vedete che posso o tornare indietro e editare, o stampare, o salvare l'immagine su disco. Proviamo prima a salvare l'immagine su disco, vedete che ho scaricato in formato PNG l'immagine del mio fumetto, che ora vi mostrerò. Eccolo qui, chiudiamo, posso ancora stampare, vedete che posso stampare la mia pagina, questo fumetto è stato creato con Make Belief Comics, posso naturalmente, anziché stamparla, salvarla nel mio disco rigido in formato PDF. E questo sarà il risultato. A questo punto, per superare il limite di questa applicazione che non mi consente di salvare online, posso pubblicare online il PDF del mio fumetto o l'immagine, per esempio su Google Drive o comunque su qualche altro sistema di archiviazione online di cui usufruisco. L'ultima possibilità che mi viene data è di inserire il mio nome, la mia mail e poi una mail a cui voglio inviare il mio fumetto. Si tratta, come abbiamo visto, di uno strumento estremamente semplice, che non richiede registrazione, molto facile da apprendere, limitato senz'altro, ma che presenta, come altre applicazioni di questo genere, tutti i vantaggi del fumetto, cioè la sua versatilità, chiedo scusa, che ci permette di utilizzarlo per molteplici scopi e per soddisfare molteplici esigenze. Oppure, farsi che gli studenti creino un fumetto per raccontare una storia che hanno letto, per fargli discutere su un determinato tema di attualità, oppure far loro recitare un fumetto che hanno creato, oppure ancora fargli discutere sulla struttura narrativa, seppur minimale, del fumetto che hanno realizzato o che hanno letto, secondo, per esempio, le varie funzioni della merfologia della fiaba di prop, oppure far sì che utilizzino il fumetto per raccontare una propria esperienza biografica, secondo i principi della pedagogia autobiografica e della narrazione del sé, o ancora raccontare, sempre tramite il fumetto, un'esperienza scolastica, un'attività laboratoriale, un'uscita didattica, o il proprio percorso formativo, cosa hanno fatto in quell'anno scolastico, cosa hanno imparato, cosa è andato bene, cosa è andato male, il loro grado di soddisfacimento, eccetera. Bene, io ho finito, non sono riuscito ad andare oltre dieci minuti, purtroppo, vi saluto e vi ringrazio.